ben ritrovati buon lunedì e la canzone di oggi è intitolata così sirene e chimene organizziamoci la vita è dura tra noi sirene e chimene uccidono sempre gli eroi tra gli vampiri anche non mi mandare tra noi oggi sono al comando e sono tanti oggi sono al comando e sono tanti Draghi, bambini e anche lupi magari tra noi oggi sono al comando e sono in tanti oggi sono al comando e sono in tanti prima con molto poco si aveva tanto dopo avuto tutto non si avviò niente soldi, mangiare e cani l'abbiamo tutti manca amore e affetto e sentimento tra noi manca amore e affetto e sentimento tra noi manca amore e affetto e sentimento manca amore e affetto e sentimento manca amore e affetto e sentimento tra noi lo sapete? prossima puntata altra canzone lunedì prossimo vi voglio qua ancora ciao 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 ciao